Buongiorno ragazzi, oggi guardavo questo, stavo cercando proprio la contrapposizione tra l'elita e il popolo che mai come in questi tempi c'è stata. Guardate la Meloni che mette la bandiera di Israele e dice noi siamo con Israele e il popolo che fa manifestazioni pro palestina. Questo in tutto il mondo, in America, sotto la Casa Bianca, in tutto il mondo. Non c'è mai stata tanta contrapposizione dell'elita che la pensa in un modo contro il popolo. Quindi loro hanno già deciso, inutile che poi dicono tregua, anche gli stessi Iran, l'elita fa una cosa, il popolo è sceso tutto in piazza, ma loro dicono se continuano, se continuano, capito? Avevano deciso di non intervenire per almeno un mese, poi ora si vedrà, ma per adesso è tutta una pantomina perché l'elita aveva già deciso cosa fare in Palestina, mentre il popolo non la pensa affatto come la pensa l'elita.